Evacuata l'Ideo del Sole sul Gargano dove per liberare alcune persone rimaste intrappolate nei camping sono servite addirittura i gommoni. Nel pomeriggio di ieri il maltempo nelle ultime ore ha fatto esondare il torrente romondato. Attraverso un piano di evacuazione gli oltre 225 turisti sono stati alloggiati a Rodi Garganico, 183 in altri camping della zona, mentre 42 hanno trovato ospitalità nella palestra di una scuola di Rodi e sono stati assistiti da volontari della protezione civile. Stanno tutti bene. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Vico del Gargano, Lucera, Sansevero, Lecce, Bari e Ancona. C'è stato il timore che potesse ripetersi il disastro di due anni fa quando sul promontorio del Gargano perso la vita alcune persone. Per fortuna sono attesi miglioramenti meteorologici nelle prossime ore. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Da questa mattina la situazione a Lido del Sole si è normalizzata, anche se sono ancora centinaia le chiamate di soccorso che stanno arrivando al centramilino del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli allagamenti nelle abitazioni.